Di Comac e Comune di Teramo da questa mattina stanno lavorando anche al fascicolo scuole danneggiate dal terremoto. Due tecnici inviati dal Corri, il centro operativo regionale che si occupa delle verifiche sugli edifici pubblici, stanno passando il rassegno ai plessi cittadini per valutarne la staticità e la sicurezza sismica. Una volta compilate le schede AEDES della protezione civile, ci sarà un nuovo incontro con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori per capire cosa fare alla riapertura delle scuole prevista per il prossimo lunedì 7 di novembre. Proprio i genitori ieri avevano manifestato al sindaco la propria preoccupazione per le lesioni riportate dagli edifici scolastici, minacciando di non mandare i propri figli a scuola una volta riavviate le lezioni. Non si tratta di psicosi. I bambini hanno sempre reagito abbastanza bene alle scosse. Il problema è che una crisi di panico a casa, dove magari anche la casa non è antisismica, tutto quello che si vuole, è però accompagnata da un genitore che sa come muoversi. In una classe di 25 bambini, 5 bambini con una crisi d'ansia, bloccati, ma come li gestisci? Non è possibile. Senza inagibilità le scuole non possono richiedere i moduli, né le tensostrutture né nulla. Non avendole a disposizione, noi non possiamo decidere nulla. Noi siamo costretti e non possiamo rimanere costretti in una situazione come questa. Non è possibile. Per il momento l'attività didattica è sospesa anche all'Università di Teramo, dove si tornerà sui banchi lunedì. Il rettore Luciano D'Amico rassicura sulla sicurezza delle strutture. Credo di poter rassicurare tutti, sullo stato delle nostre strutture, riaprirà l'attività didattica lunedì, ma solo per evitare gli studenti fuori sede di dover rientrare in queste ore, in questi giorni, di dover rientrare in un contesto, in una situazione che si va normalizzando, ma proprio perché si va normalizzando abbiamo preferito non aggiungere ulteriore complessità. Grazie.